L'Azzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Da Ulisse, sono iniziati i saldi. Se vuoi trovare la tua misura, affrettati. Da Lulu, c'è l'ascolto che vuoi tu. Fino al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria, borse. Tantissime novità nel settore casalinghi, ferramenta, elettricità, detersivi, giocattoli, articoli per la casa e da regalo. Da Lulu, c'è sempre di più. Centro commerciale Lulu Shop. A Daci Reale, in via Lazzaretto 24. Aperto anche la domenica. Orario continuato dalle 9 alle 21. Approfitta degli sconti fino al 70% nel settore calzature, abbigliamento e accessori per scoprire la convenienza anche degli altri articoli. Cari futuri sposi, ma di sì, vuol dire anche opportunità. Grazie ai vantaggi a voi riservati. Scegliete i nostri professionisti, richiedete le prove d'acquisto e venite a ritirare gli esclusivi regali. Un servizio di consulenza gratuita giornaliera e non solo vi guiderà nella scelta dei migliori fornitori per la realizzazione del vostro matrimonio di Sicilia. Contattaci www.matrimoniodisicilia.com Radio Etna Espresso La New Heat della settimana Disco Espresso Disco Espresso Che super taglio di capelli che hai Che super pelle che profumo che hai Le mandi fuori di te Grazie a tutti Grazie a tutti